Inaugurato il Ponte della Pace a Costa Volpino, la passerella sul fiume Olio che unisce le franzioni corti e piano e un tassello strategico per lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali attorno al lago di Iseo. Uno studio legato all'inquinamento ambientale da plastica, a cura dell'Istituto Negri insieme all'Associazione Pescatori di Bergamo e alle scuole del territorio del lago di Iseo. I volontari della Croce Rossa e della Valle Gandino cercano nuovi adepti, aperta una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza, indispensabile per proseguire l'attività di volontariato sul territorio. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo l'ampia pagina di cronaca con una tragica notizia, arrivata da Santomo Bonoterme, un uomo di 69 anni è deceduto dopo un incidente agricolo. Dalle prime informazioni stava lavorando nel bosco quando un albero lo ha colpito forse a causa del forte vento. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 di lunedì. In via degli Alpini e sul posto sono giunte due ambulanze e le risoccorso. Le condizioni del 69enne erano apparse fin da subito molto gravi. Un investimento questa mattina a Casazza, a lungo Via Nazionale, da una prima ricostruzione una signora di 54 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata centrata da un'automobile diretta verso Bergamo attorno alle 6 del mattino. Subito sono stati chiamati i soccorsi sul posto, sono arrivata un'automedica e un'ambulanza dalla Croce Rossa di Entratico. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non è in pericolo di vita. Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio anche a Lallio. Lo scontro avvenuto intorno alle 15.30 in via provinciale ha coinvolto un furgone e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, rimasto ferito in modo grave. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Feriti lievemente invece il passeggero della motocicletta del conducente del furgone. Chiudiamo l'ampia pagina di cronaca con un infortunio sul lavoro per un 58enne presso un magazzino di un'impresa edile nel territorio di Bagnatica. Un lavoratore mentre si trovava sul pianale del cassone di un autocarro a sistemare una cinghia ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo riportando un grave trauma cranico. Subito soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato con il discorso in codice rosso in elicottero quindi agli spedali civili di Brescia. Sul posto oltre ai carabinieri si è recato anche il personale tecnico della struttura complessa prevenzione e sicurezza di ATS Bergamo. Voltiamo pagina costa Volpino da ieri si cammina sulle ponte della pace. È stata infatta inaugurata la passerella sul fiume Olio che unisce le frazioni corti e piano. Una struttura che diventa anche un tassello strategico per lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali attorno al lago di Iseo. Il servizio di Nicola Androletti. A Costa Volpino inaugurato il ponte della pace. Che significato ha quest'opera? Chiaramente ha significato molto importante. Abbiamo deciso di dedicare e intituare questo ponte alla pace. Un diritto fondamentale per tutte le persone. Abbiamo visto in questi ultimi mesi a causa di questa triste guerra in Ucraina quanto sia importante e fondamentale la pace per crescere in maniera serena in un territorio. Proprio l'inizio della guerra in Ucraina vi ha fatto pensare di chiamare questo ponte il ponte della pace. Assolutamente sì. Mentre stavamo innalzando l'antenna di questo ponte era scoppiato questo conflitto e questi eventi, questi tristi eventi ci hanno fatto molto riflettere. Abbiamo così deciso di intitolare il ponte al ponte della pace anche come significato legato al nostro territorio. Un territorio che è sempre stato capace di accogliere persone provenienti da posti differenti e un territorio capace di unire culture differenti. Perché è stato necessario realizzare quest'opera? Con quale obiettivo l'avete messa in campo? L'obiettivo era quello di collegare dal punto di vista ciclo pedonale le due frazioni più popolose del nostro comune, la frazione di corti e la frazione del piano. Chiaramente questa è un'opportunità di spostarsi senza l'automobile, a piedi o in bicicletta in tutta sicurezza ed è un'opera pensata soprattutto per le persone, i ragazzi più giovani che vogliono recarsi nei vari servizi che il nostro comune offre alle strutture sportive piuttosto che alle strutture dedicate all'istruzione. Un'opera che ha anche valenza sovracomunale se pensiamo ai percorsi ciclo pedonali? Assolutamente sì, il tema di questi percorsi ciclo pedonali che collegano anche luoghi lontani ma che permettono alle persone di attraversare questi territori bellissimi in sicurezza e lentamente, così come si utilizza a dire in questo periodo, è un tema fondamentale, è un obiettivo da perseguire perché è rivolto ad un turismo slow, a un turismo a cui piace vivere il territorio ed è quello su cui vogliamo puntare nel prossimo futuro. Qualche numero rispetto a questo ponte? Allora, il ponte ha una lunghezza di circa 120 metri e l'antenna che lo sorregge perché è un ponte strallato quindi sospeso su cavi, ecco questa antenna ha un'altezza di 36 metri. Quanto è costato e come si è riusciti a far fronte all'investimento? L'opera nel suo totale è costata 2 milioni e 50 mila euro, sono stati utilizzati 400 mila euro grazie ad un contributo regionale, un contributo che deriva dall'accordo quadro di sviluppo territoriale, la QST, appunto e il restante è stato coperto tramite mutuo, un contratto con il CONI a tasso zero e poi da risorse del bilancio comunale. Ci spostiamo ora ad Alzano Lombardo dove l'amministrazione comunale riconoscerà la cittadinanza onoraria ad Alberto Bombassei in un consiglio comunale straordinario che si svolgerà il 5 aprile. Proprio ad Alzano nacque negli anni della giovinezza la passione di Bombassei verso il mondo dell'imprenditoria. Il prossimo 5 aprile in consiglio comunale Alzano Lombardo premierà nelle eccellenze una cittadinanza onoraria, il motivo che vi ha spinto a arrivare a questa scelta? In questi anni abbiamo dato 4 cittadinanze onorarie, è un riconoscimento molto importante a cui teniamo molto, che ovviamente va gestito nel modo corretto. La prima cittadinanza è stata data a padre Saltarin che è stato vice postulatore della causa di beatificazioni di fratommaso da Olera. La seconda nel 2016 l'abbiamo data a Monsignor Facchinetti, Don Alberto, che è stato parroco per tanti anni dalla nostra città. La terza l'abbiamo data al Cavalier Domenico Bosatelli per ciò che ha rappresentato per la nostra città e per la sua straordinaria vita imprenditoriale. La quarta l'abbiamo data all'architetto Carlo Panigada che tanto ha fatto per la nostra città in particolar modo per il Museo di San Martino. Arriva ora questa quinta cittadinanza che assegneremo all'ingegner Alberto Bombassei. Alberto Bombassei che ha vissuto per 20 anni ad Alzano Lombardo, i primi 20 anni della sua vita e quindi qui ha avuto la formazione, si è avvicinato alle industrie. Il papà era direttore della OMAR, una ditta importante, una ditta meccanica importante per cui qui ha preso quelle competenze che gli hanno poi consentito di diventare il grandissimo industriale che oggi è. Ho avuto un grandissimo piacere quando l'ho incontrato per chiedere se era gradita questa onorificenza e lui è rimasto davvero commosso da questo gesto e ne siamo felici. Noi siamo orgogliosi di riaverlo tra i nostri concittadini e quindi sarà sicuramente una bella festa. quale è il 5 aprile. In un anno particolare appunto in cui vengono portate a galla con Alzano Bellissima Città le eccellenze anche appunto dell'industria legate magari alla famiglia, a pesenti, l'italcementi, tutte queste storie e questa è un'altra storia che ha a che fare anche con Alzano. Alzano Bellissima Città abbraccia tantissimi eventi e tantissimi elementi. stiamo davvero toccando tutto il possibile per cercare anche di sollecitare l'interesse della comunità e per riappropriarsi dalla propria storia, dal proprio territorio, dai propri spazi. Quello della vita industriale di Alzano è una storia conosciuta nel senso che la famiglia pesanti ha scritto la storia dell'Alzano moderna, sono tantissime le figure di eccellenza ma ne abbiamo tantissime altre, tante ditte, la pigna, la zero, insomma che hanno scritto la storia industriale della nostra Bergamo. Tra l'altro una storia che racconteremo anche in alcuni convegni che si svolgeranno presso il municipio proprio nei prossimi giorni. Per tre mercoledì ci saranno dei convegni che saranno dedicati a questa storia importante della nostra città. Ci spostiamo nuovamente sul Lago di Seo, un nuovo progetto a cura dell'Istituto Mario Negri che insieme all'Associazione Pescatori di Bergamo ha iniziato uno studio legato all'inquinamento ambientale da plastica in collaborazione con le scuole del territorio. Il progetto nasce da un bando che ha fatto la Fondazione Cariplo nell'ottica di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023, quindi abbiamo scritto questo progetto, l'idea di questo progetto è quella di sensibilizzare i bambini sul problema dell'inquinamento, come faccio a sensibilizzarlo? Prendo i bambini che abitano qua, questo è il loro ambiente, loro qui vengono a Pescara a fare il bagno, è casa loro, quindi riporto qui, gli faccio fare gli scienziati, entrano in acqua, si bagnano i piedi, campionano, fanno tutti i pasticci, ma raccolgono dei campioni con una procedura ben precisa che gli ho spiegato, poi faremo le analisi e avremo i campioni qui a Predore, a Iseo, li abbiamo fatti, i subacquei stanno campionando in profondità e poi campioneremo l'emissario, l'immissario e su diverse parti del lago. Raccolti i campioni ai ragazzini, gli ho fatto una lezione preparativa, fatti i campioni tornerò da loro con i risultati, guardiamo la cartina del lago e facciamo gli scienziati in classe, avremo dei dati e cerchiamo di ragionare sui dati per capire se le microplastiche che entrano sono di più di quelle che escono o sono di meno, se ce n'è di più qua, se ce n'è di più di là, se sono in profondità, in superficie, cioè l'idea è di renderli dei piccoli scienziati che ragionano su un problema ambientale. Quindi la prima impressione, come sta andando questa ricerca, com'è il grado di partecipazione e come si comportano i ragazzi? Sì, ai ragazzini sono veramente, sono rimasto colpito io dall'attenzione, dalla cura e dall'interesse che hanno mostrato. Prima, mentre ero lì che li guardavo travasare, ho visto alcuni ragazzini che si fotografavano le schede di campionamento, cose che non pensavo mai potessero fare, quindi veramente sono interessati, molto interessati. Adesso avrà notato che sono tutti con il camice bianco, è un camice di cotone che non rilascia microplastica, quindi hanno grande attenzione nelle cose che fanno. Devo dire, sono rimasto impressionato, sì. Il lago come sta? Adesso lo vedremo. Io ho fatto già a Diseo, ho guardato bene sulle rive, così non vedo niente in realtà. Mentre al mare, se si guarda sulla sabbietta, sulla riva, purtroppo qualche cosa di più o di meno si vede sempre, quindi non ho visto niente. Non lo so, vediamo adesso le microplastiche come sono, lo vedremo, sarà interessante comunque. Voltiamo decisamente pagina di Renault al bullismo attraverso l'arte moderna dei murales, un nuovo progetto a cura dell'Istituto Superiore Valle Seriana di Gazzaniga. I ragazzi vengono così sensibilizzati sull'argomento, imparando una nuova arte grazie all'artista William Gervasoni. Sentiamo. Progetto contro il bullismo, una lotta importante non solo una giornata ma tutto l'anno, è quello che state insegnando a questi ragazzi. Sì, sicuramente è quello che stiamo insegnando a questi ragazzi che praticamente come istituto ha visto coinvolti innanzitutto le forze dell'ordine che hanno partecipato sensibilizzando i ragazzi proprio su questo tema della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e poi il progetto si è concretizzato nella classe prima TD dove nell'ambito di un percorso di educazione civica rivolto proprio a tutto l'anno scolastico e vede loro protagonisti proprio nella realizzazione di questo murales proprio oggetto del bullismo proprio per far capire ai ragazzi che il disvalore di alcune azioni di altri coetanei può portare a conseguenze anche gravi. Abbiamo scelto di coinvolgere William Gervasoni in arte wizard che attraverso questo murales molto semplice che posizioneremo all'interno della scuola all'inizio ma è anche di un percorso che lo vedrà coinvolto anche nei prossimi anni speriamo utilizzando un'opera, uno stile comunicativo che piace ai nostri ragazzi. Passa subito il murales che vedi in giro per il paese, passa il murales brutto, quello schifoso, quello con le scritte eccoci, mentre passa il murales bello con dei colori, con un valore di fondo. Allora abbiamo scelto una frase molto semplice, no al bullismo, dove all'interno di questo modo di scrivere, di disegnare metteremo una croce bianca, degli asterischi che stanno a significare un po' le parolazze, un telefono. Sappiamo che oggi il bullismo passa molto per il telefono, per le foto e poi un classico simone al bullismo c'è un pugno e qualche volta il bullismo passa anche attraverso le lezioni violente nei confronti delle altre persone. E allora con questa classe, un po' modello diciamo così della scuola, abbiamo fatto questo e lo stiamo finendo adesso in una giornata intera coinvolgendo piccoli gruppi i nostri ragazzi. A conclusione di quello che stiamo finora raccontando e soprattutto illustrando vorrei sottolineare l'importanza pluriennale che avrà questo progetto per questo istituto. È un istituto che raccoglie molte situazioni particolari. Siamo un istituto inclusivo che punta soprattutto sulla differenziazione dei percorsi e sulla valorizzazione di ogni singolo studente anche con le sue fragilità. E le prime fragilità che emergono da alcuni anni sono proprio quelle legate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la dipendenza soprattutto dal cellulare che determina anche una mancanza di attenzione, una diminuzione della presenza in classe dal punto di vista della partecipazione. Ringrazio i docenti soprattutto che hanno partecipato a questa iniziativa e anche le famiglie che in qualche modo vengono coinvolte all'interno di un percorso che non sarà facile ma sicuramente innovativo ed interessante. La Valle Seriana è piena ormai di due opere, possiamo dire, tanti paesi con cui collabori. Questa è una collaborazione particolare per questa lotta contro il bullismo? Allora sì, cerco di farne il mio meglio per riempire più possibile i muri della Bergamasca, non solo della Valle Seriana, ovviamente legalmente perché questo è il mio lavoro. Quest'opera è legata al bullismo, contro il bullismo, che è un tema sempre più ricorrente nelle scuole e io insieme ad alcuni ragazzi di questa scuola stiamo disegnando e colorando in maniera allegra e positiva. Gli hai anche insegnato appunto cosa vuol dire quella che è la tua professione a tutti gli effetti? Sì, la mia professione che è appunto fare il graffittaro, lo street artist, si sviluppa in vari modi da collaborazioni per privati, per case o aziende, collaborazioni con pubbliche amministrazioni, esibizioni dal vivo e come in questo caso corsi per ragazzi, sia nelle scuole che negli oratori, per le cooperative. e questo è quello che faccio. Io cerco sempre, quando faccio i corsi soprattutto, di dare, non solo far dipingere i ragazzi ma dare anche un'educazione al mondo dei graffiti spiegandogli soprattutto cosa rischiano a farli illegalmente perché i rischi sono notevoli e magari loro non lo sanno alla loro età. Ci spostiamo ora in Valle Gandino dove domani sera i volontari della Croce Rossa aprono le porte della loro sede in zona Piscine a Casnigo per una serata di presentazione per trovare nuovi adepti. Allo stesso tempo è aperta una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza indispensabile per proseguire l'attività di volontariato sul territorio. Andiamo a conoscere questa realtà della Croce Rossa Valle Gandino. Innanzitutto quanti siete? Come operate? Al momento siamo 18 elementi. I nostri compiti principali, quelli che riescono a tenere viva la sede e la presenza della Croce Rossa qui in Val Gandino, sono i pronti intervento di 118 e le assistenze alle gare o alle manifestazioni patronali. Qualche numero della vostra attività? Dunque, diciamo che il Covid ha falcidiato un pochino il numero dei volontari per cui quelli rimasti si danno un po' più da fare. Naturalmente tra i 18 che sono presenti di pensionati in realtà ce ne sono solo 4. Tutti gli altri sono persone che lavorano e che danno la disponibilità quando finiscono dal lavoro e quindi oltre l'orario lavorativo oppure nei giorni festivi o prefestivi. Quindi siete un punto di riferimento per un'intera vallata e state cercando nuovi volontari appunto per questo. Apriremo a breve, il 28 ci sarà la presentazione per l'arruolamento tra virgolette di nuovi volontari perché ne abbiamo proprio tanto bisogno. Oltre a questo altre difficoltà sono insorte nell'ultimo periodo, tra questo state lottando anche per avere un nuovo mezzo. Sì, abbiamo aperto una raccolta fondi per poter comprare una nuova ambulanza. Noi allo Stato ne abbiamo due, però una per il protocollo AREU non è più utilizzabile perché ha superato gli anni, quindi a 21 anni di età il suo l'ha fatto. Ne abbiamo una che utilizziamo attualmente per tutti i servizi, sia 118 che assistenza. L'abbiamo comprata nel 2014 e quindi quest'anno sono nove anni. La teniamo lì come l'oro e come qualcosa di molto prezioso. Però avendo una mini convenzione con la Regione, noi dobbiamo far fronte e dare la certezza di essere presenti per un tot numero di ore durante la settimana e durante il mese. Il rischio è che si rompa l'unica ambulanza operativa che abbiamo e per cui è necessario avere la seconda ambulanza. Come partecipare quindi a questa raccolta fondi e venirvi in aiuto? Guarda, abbiamo mandato a tutti gli imprenditori della zona e non della zona una lettera di presentazione delle nostre esigenze, dell'esigenza di avere un'altra ambulanza e stiamo aspettando con molta speranza che ci diano una mano. È stata una splendida domenica mattina di sole per centinaia di persone che hanno preso parte alla terza edizione della Mercatorum Alzano, camminata non competitiva su tre percorsi a cura dell'associazione di casa Cammina Alzano del presidente Graziano Gritti insieme all'assessorato alzanese guidato da Elena Bonomi. La Mercatorum ha toccato le bellezze architettoniche e soprattutto paesaggistiche della città, arrivando fino alle frazioni collinari e ai loro splendidi paesaggi e sentieri. Tante le persone che hanno collaborato per l'ottima riuscita dalla manifestazione e tanti i volontari presenti legati a Croce Rossa, al CAI, ai VOT, agli Alpini e a tutte le associazioni delle consulte a Zanesi. Domani sera alle 20.40 andrà in onda una nuova puntata della rubrica Il sasso nello stagno. Andiamo a scoprire con Tony Tranquillo di cosa si parlerà. Domani sera tornerà l'appuntamento con Il sasso nello stagno per la prima volta a San Pellegrino Terme. Probabilmente l'avrete capito grazie a questa bellissima struttura del Grand Hotel di San Pellegrino. Per un tema particolare parleremo del cibo, probabile cibo del futuro, la farina fatta con insetti. Voi sareste disposti ad assaggiare cibi fatti con questo tipo di farina? Le abbiamo chieste. Un sacco di interviste ovviamente molto simpatiche da vedere. Domani sera nell'appuntamento, ora una in anteprima. Posso chiedervi se vi andrebbe di assaggiare un biscottino, qualcosa fatto con farina di vermi? Anche no. Perché? E preferiamo la cucina... Non posso assaggiare ma non con i vermi. Direi proprio di no. Non è per scoprire nuovi gusti, nuove pietanze? Vanno benissimo quelle che abbiamo. Quindi è sempre ravioli, risotto, polenta... Siamo tradizionalisti. Poi se magari vi innamorate del gusto? Non dovrei sapere cosa c'è all'interno. Ah, quindi lei ha già mangiato qualcosa, magari l'hanno portato dei piatti che non sapeva cosa contenessero. Sì, in Thailandia qualche insetto o qualcosa di simile mi è capitato di doverli mangiare ma limitato al viaggio. Fantastico, non ce l'ho di raccontare. Cosa hai assaggiato? Insetti di che tipo? Però quelli non erano farine, erano proprio insetti. No, no, erano proprio insetti, erano proprio insetti grigliati, ecco, diciamo così. E tra poco arriveranno i maggiolini, quindi ci facciamo una grigliatina di maggiolini. No, no, posto così. E veniamo ai programmi della serata su Antenna 2 alle 20.10. I risultati e commenti del calcio dilettantistico bergamasco con tempi supplementari alle 22.30. La seconda edizione del Tg di Antenna 2 alle 23.05 la partita di calcio Scanzorosciate-Prandalunghese e a mezzanotte 45 la terza edizione del Tg di Antenna 2. Al manacco del giorno domani martedì 28 marzo il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 19.47. La luna è al primo quarto, sorge alle 10.43 e tramonta alle 3.43 del giorno successivo. La chiesa ricorda Beato Venturino di Bergamo. E con questo è tutto, dopo il Tg andranno in onda il Tg Sport e le previsioni del tempo. A tutti voi una buona serata. La chiesa ricorda Beato Venturino di Bergamo.